Nubi nere sopra i cieli del Sanzio, interviene il presidente Acquaroli a difesa di Bruschini, direttore dell'ATIM. Non chiederemo le sue dimissioni. Il governatore perplesso per la scelta di Aeroitalia di cancellare i voli difende la politica di rilancio del Sanzio. Si è riunito il comitato di gestione del porto in presenza del nuovo membro Giacomo Bugaro nominato dal comune. Molo Clementino deciderà il ministero, ma intanto fuori i comitati ambientalisti protestano. Botte da orbi fuori da un locale della riviera blizza all'alba a San Benedetto del Tronto. In manette sei persone accusate di tentato omicidio per una rissa in estate sono state fermate dai carabinieri del posto. Buonasera da ETG Mark e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che voi come di consueto potete seguire in contemporanea sul canale 12 del Digitale Terrestre e poi anche sulla nostra app che si scarica gratuitamente dagli smartphone e dai tablet sul nostro sito www.etvmark.it sulla nostra pagina Facebook. In primo piano sono trascorsi sette anni dal 30 ottobre 2016, tragico anniversario di una scossa di terremoto devastante per il centro Italia. Ricordi, commozione e anche un segno di rinascita a Pieve Torina con l'inaugurazione di un nuovo asilo nido ponte per la ricostruzione. Linda Cittadini. Ricordo il sapore, il sapore delle macerie, ricordo il sapore delle polveri che di fatto me lo porto dietro nei miei ricordi ed anche in qualche notte io sento ancora quel sapore in cui non ti rimane la saliva in bocca e cerchi di aiutare le persone a uscire. Un sapore che non si dimentica quello del terremoto. Sette anni fa c'era la scossa definitiva, quella di magnitudo 6.5, il 30 di ottobre. La botta che ha cambiato per sempre il volto di più di 130 comuni dell'Italia centrale. Qui a Pieve Torina, nel Maceratese, i segni più devastanti, ma anche quelli di speranza, gru e rientri a casa, finalmente dopo sette anni. Un segnale in più il nido inaugurato davanti all'asilo nel campus scolastico. Puntare sui più piccoli per arginare lo spopolamento con la nuova struttura realizzata grazie anche al contributo dell'Associazione Nazionale Calciatori e ai risparmi della Camera. Qui ci saranno i bimbi di tutte le comunità, di tutti i comuni. Abbiamo inserito una cifra veramente popolare di 160 euro a bimbo per mensili e ovviamente questo lo stiamo facendo per aiutare le famiglie, per supportarle e per garantire un'opportunità in più in questi luoghi. Abbiamo un accredito di 20 posti. L'ultimo cittadino che è arrivato è il suo bambino, è papà da poco, ma quanti bambini sono nati dopo il sisma del 2016 qui a Pieve Torina? Sono loro il segno della speranza? Sì, ma diciamo che il giorno successivo è nata un'altra bimba, Nikita, poi ieri è nata un'altra bimba che si chiama Sofia, quindi un bilancio estremamente positivo in questo 2023. È un esempio perché attinge da criteri di sostenibilità in modo importante, sia per quanto concerne il dialogo tra questo edificio, la natura. Quindi gli alberi non sono stati abbattuti ma sono stati integrati nella costruzione del Nino. Proprio così gli alberi sono stati integrati, la struttura stessa ha dei criteri di sostenibilità. Come procede la ricostruzione? Noi abbiamo il 50% di pratiche decretate, questo ci fa ben sperare, inutile nasconderlo. Dopo sette anni speravamo tutti di stare all'interno delle nostre case. Poi le lungaggini burocratiche, le opportunità mancate, il super bonus che non veniva più erogato, queste proroghe. Ecco, è una lotta continua su tutti i fronti. Oggi da nord ci ha parlato anche il commissario straordinario Guido Castelli che appunto ha fatto riferimento al cambio di passo nella ricostruzione ma invece a San Severino Marche al grido ricostruiamo la nostra scuola e divini ma non divisi, gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Divini appunto sono scesi in strada in segno di protesta contro le difficoltà nella ricostruzione del nuovo edificio. Quello storico era stato abbattuto per ragioni di sicurezza dopo il sisma, presenti anche il dirigente scolastico Sandro Luciani e il sindaco Rosa Piermattei. I giovani hanno trasportato i banchi fuori dal plesso per far sentire forti le loro voci nella giornata del tragico anniversario del 2016 e chiedere di ricostruire un immobile sicuro, sostenibile ma anche accogliente. Ed ora torniamo ad occuparci di infrastrutture, quale futuro per il Sanzio mentre in furia la guerra tra l'Atim e Aroitalia il governatore delle Marche difende Marco Bruschini, il direttore dell'agenzia e dice che la regione non ne chiederà le dimissioni. Il presidente ha poi elogiato la strategia di rilancio dell'aeroporto. Bruschini è il direttore di Atim che è l'agenzia del turismo internazionalizzazione e credo che da direttore del turismo dell'internazionalizzazione debba tutelare la promozione. Non lo vedo connesso direttamente ai voli, anche perché per legge dare un contributo a un volo significa dare un contributo di Stato e non si può fare. Quindi le dimissioni, insomma, non sono previste le dimissioni di Bruschini? Se Bruschini dà le dimissioni non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a Bruschini. Noi non le chiederemo sicuramente. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli Blinda, Marco Bruschini, nonostante il direttore di Atim sia sotto il fuoco incrociato del PD, che con il consigliere regionale Romano Carancini ne ha chiesto le dimissioni, e della D di Aero Italia Gaetano in Trieri, che accusa l'agenzia di non aver rispettato un accordo commerciale con un corrispettivo di 750 mila euro per la promozione dei voli. Il tema del volo e del sostegno ai voli non può riguardare né Atim né la regione Marche. Quello che può riguardare Adim né la regione Marche è la promozione del nostro territorio. Ripercorrendo i passaggi della ritirata di Aero Italia dal Sanzio, che interromperà i voli per Bucharest, Vienne e Barcellona dal 13 novembre e quelli in continuità per Roma, Milano e Napoli dal 1 ottobre 2024, senza entrare nel merito della strategia commerciale della compagnia, Acquaroli ha confermato che si è trattato di una scelta unilaterale della stessa, maturata neppure un mese dall'avvio delle rotte. Mi sembra irreale quello che sta capitando. Poi ha difeso la strategia di rilancio dell'aeroporto. Cercare di ricondurre l'andamento di tutto l'aeroporto delle Marche a questi tre voli mi sembra sminuire il grande invece lavoro fatto dal sistema aeroportuale e anche dal governo centrale e dalla regione con i voli di continuità che non possono essere messi in dubbio per legge. Io voglio ricordare a tutti che i voli di continuità sono voli che sono stati assegnati per il tramite di un bando pubblico e non di una scelta privata o unilaterale della regione. C'è un bando pubblico che non solo ha assegnato alla compagnia, a dire il vero l'unica che ha partecipato a questo bando, la possibilità di erogare questo servizio, ma c'è anche una serie di norme che regolano tutte le fatti specie e tutti gli imprevisti che possono capitare. Sull'annuncio di Ancona International Airport e Atim di rafforzare la sinergia con Ryanair, chiara la risposta del Presidente. Per noi è un'opportunità e più compagnie e più interlocutori audorevoli vengono nella nostra regione e investono nel rispetto delle norme e delle leggi, più noi siamo felici. A proposito di aeroporto, domani il Partito Democratico delle Marche che sta richiedendo, come avete sentito anche dal servizio, le dimissioni di Marco Bruschini, ha convocato una conferenza stampa in regione per approfondire le tematiche legate all'aeroporto. Sono preoccupati idem per il futuro dello scalo, in particolare dopo l'annuncio dell'interruzione dei voli per Bucarest, per Vienna ma anche per Barcellona e soprattutto per la continuità territoriale. Ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed ora invece ci occupiamo di Porto. Come anticipato oggi si è riunito il Comitato di Gestione in presenza di Giacomo Bugaro, il nuovo membro nominato dal Comune di Ancona. Si è parlato anche di Molo Clementino ma sembra che dovrà decidere il Ministero a riguardo. Noi abbiamo bisogno comunque, sempre coniugando l'ambiente, la sostenibilità e la protezione dei cittadini di nuovi traffici, di incrementare le toccate su Ancona e quindi voglio che sia chiaro che il mandato che il Sindaco mi ha dato è quello di sostenere la crescita del Porto di Ancona. Capitolo Molo Clementino, c'è davvero concreto il rischio che si possa perdere una compagnia come MSC? Come si procederà? Io non credo, sono riduce oggi da una commissione in comune nella quale il Sindaco ha ribadito con forza sì alle crociere di Ancona ma sì con la compatibilità ambientale. Il Sindaco si è espresso contro il Molo Clementino perché ha dei forti dubbi rispetto a dei pareri che anche il Ministero ha espresso richiedendo nuovi dati di inquinamento ambientale e vi dicendo. La decisione spetta l'autorità portuale e soprattutto spetta il Ministero perché se il Ministero rilascerà o non rilascerà il via VAS quella sarà la discriminante per fare o non fare il Molo Clementino, noi possiamo fare ben poco. Chiaramente se il Ministero rilascerà il via significa che il nuovo Molo sarà in condizione di assoluta salubrità per i cittadini. Qual è la visione complessiva? Il porto antico così come oggi non è più funzionale allo sviluppo del porto. Il porto antico deve essere progressivamente ridato alla città e tutte le attività sia per un fatto ambientale sia fatto anche per un fatto fisico. Le navi di nuova dimensione non entrano e non hanno il raggio di evoluzione sufficiente per muoversi all'interno del porto attuale dovranno andare in quella che il Presidente della Giunta regionale, d'accordo con l'autorità portuale e il Sindaco d'Ancona hanno chiamato penisola Marche, ovvero quel nuovo spazio che dovrà essere creato dove oggi c'è la banchina 26, la 27 che è in costruzione e la 28 che dovrà essere fatta, dove noi auspichiamo venga fatto il terminal crociere definitivo. Finché non ci sarà la penisola come accogliere le grandi navi nel porto? Il comitato portuale ha già deliberato l'elettrificazione delle attuali banchine all'interno del porto antico che sono una mitigazione del problema perché chiaramente è solamente un effetto tampone. Chiaramente dovremmo in qualche maniera arrabbattarci con l'esistente, dovremmo mettere in funzione la 19, la 20 e la 21, banchine che già sono libere, che possono accogliere una nave e quindi spostare progressivamente in attesa che le nuove banchine verranno realizzate le attività sempre più fuori dal porto, in modo che all'interno del porto possano svilupparsi invece attività commerciali più tradizionali, la città ne possa usufruire. Proprio sul molo Clementino però l'opinione pubblica si divide e fuori dal porto hanno protestato i comitati ambientalisti. Sentiamo. Siamo in un momento di fluidità, di comunicazioni, noi siamo stati sempre per il no al molo Clementino per tantissimi motivi, certamente i primi legati all'inquinamento che apporterebbe le navi, ma non ultimo anche per riprendere una parte della città, restituirla a cittadini perché è lì che ci sono i beni monumentali e pesaggistici, quindi ecco che una proposta si sposa con l'altra. Ora noi siamo qui perché proprio oggi si parlerà del DPSS e nel DPSS, contrariamente a quanto sostenuto dal sindaco Silvetti, sia nella parte degli obiettivi, sia nella parte della suddivisione territoriale, il molo Clementino rientra dalla finestra dopo essere uscito dalla porta. Quindi è importante esserci ed eventualmente esterneremo anche le nostre osservazioni. Colgo l'occasione per ricordare ai cittadini che stiamo organizzando per il 9 novembre, che mi sembra che sia un giovedì, dalle ore 17 in poi presso la sala del Consiglio Comunale, un'assemblea aperta alla cittadinanza per informarla di tutta la tematica sul porto e sui ultimi documenti per i quali noi richiediamo la partecipazione della cittadinanza. Apriamo la pagina di cronaca. Botte da orbi fuori da un locale della riviera, un blitz all'alba da parte delle forze dell'ordine, in particolare a San Benedetto del Tronto, sono finite in manette sei persone con l'accusa di tentato omicidio. Andrea Fiano. Blitz all'alba a San Benedetto del Tronto, in diverse zone della riviera, dove i carabinieri hanno arrestato sei persone per tentato omicidio. L'indagine è seguita dalla Procura della Repubblica di Teramo. Gli arrestati sono accusati di un pestaggio avvenuto il 2 agosto scorso a Martinsicuro fuori da un noto nightclub con la vittima, un quarantene che era stato prima cerchiato e poi aggredito per futili motivi con calci, pugni e lancio di sedie che aveva rischiato la vita per le gravi ferite riportate in particolare alla testa. Tutto questo a conclusione, almeno per ora, dell'operazione ridenominata Diamante. In questi mesi sono state ascoltate diverse testimonianze, analizzate i filmati della videosorveglianza del locale e tabulati telefonici. Le indagini alla fine hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenne quella notte e identificare quindi le sei persone, tutte domiciliate in zona e già note alle forze dell'ordine. Il blitz all'alba di oggi, lunedì 30 ottobre, quando i carabinieri si sono mossi in forze. Oltre alle manette sono scattate anche diverse perquisizioni con la collaborazione dell'unità cinofila dell'arma. Sotterrati in un terreno di San Benedetto, nella disponibilità di uno degli indagati, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola brasa, due pistole, una delle quali con matricola brasa, un involucro contenente 10 grammi di cocaina. L'ordine di custodia cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Terra a modiretta da Ettore Picardi. Nuova custodia cautelare in carcere per il trapper Shiva, Andrea Arrigoni, questa volta emessa dal GIP di Ascoli Piceno, cui ha dato esecuzione dell'ordinanza oggi il personale del commissariato della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto e delle squadre mobili di Ascoli Piceno, Milano e Brescia. La stessa ordinanza dispone gli arresti domiciliari per altre quattro persone. Sono ritenute responsabili di aver partecipato ad una violenta rissa, sempre a San Benedetto, lo scorso 30 agosto. Durante la litera è stato usato un coltello e tre ragazzi del posto erano rimasti feriti con lesioni personali guaribili tra i 10 e i 35 giorni. Shiva, che si trovava da pochi giorni in carcere in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare per tentato omicidio emesso dall'autorità giudiziaria di Milano, è considerato responsabile dell'utilizzo di un coltello per corpire più volte una persona estranea alla rissa ed è stato raggiunto appunto oggi dalla nuova ordinanza. Sarà ascoltato invece dal GIP nei prossimi giorni. Ed ora torniamo ad Ancona perché stamattina sotto il Palazzo della Prefettura i dipendenti dell'ispettorato del lavoro sono scesi in piazza per protestare e chiedere investimenti per un ente strategico e nuove assunzioni. Investimenti per un ente strategico e nuove assunzioni per colmare le carenze di organico sono scesi in piazza sotto il Palazzo della Prefettura di Ancona i dipendenti degli ispettorati del lavoro, chiamati ogni giorno a garantire e controllare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, adesso alzano la voce. Ogni giorno piangeamo di morti e di feriti sul lavoro e quindi ci scandalizziamo un po' tutti. Poi siamo qui a dover manifestare per qualcosa che dovrebbe essere insita di qualsiasi governo, cioè mettere nelle condizioni di tutelare chi ci tutela, che non è uno slogan. L'attività dell'ispettorato del lavoro meriterebbe un'attenzione particolare, massima, cosa che non c'è. Noi ad Ancona siamo circa 50 dipendenti, di cui una ventina di ispettori e poco più di 20, 9 sono i tecnici e di cui 6 in informazione perché ne ho assunti. Per cui la platea sono circa decine e migliaia di imprese da vigilare con questi numeri qui di ispettori. Quindi è abbastanza impossibile arrivare dappertutto, nonostante il settore strategico, dato che attualmente abbiamo dei compiti anche di salvaguarda della sicurezza dei lavoratori, della tutela per quanto riguarda i lavoratori dagli infortuni del lavoro, che attualmente in Italia al 31 agosto sono ben 657 le morti sul lavoro. Questi sono i dati ufficiali INAIL. Altra motivazione alla base del sitino odierno è che i fondi già presenti all'interno dell'ente siano utilizzati per raccoprire gli arretrati della perequazione dell'indennità di amministrazione, tra l'altro riconosciuti a tutti i dipendenti statali, tranne che ai lavoratori degli ispettorati. Esistono risorse già incamerate dagli INAIL che potrebbero essere destinate per l'arretrato che è stato riconosciuto a tutti i dipendenti delle funzioni centrali, non all'ispettorato del lavoro. Queste risorse, ad oggi essenzialmente, almeno l'ultimo incontro con il ministro, non sono state stanziate, ma le risorse ci sarebbero e sarebbero a disposizione per riconoscere l'arretrato. Un'ultima ora, la protezione civile delle Marche ha emanato un'allerta meteo di tipo arancione valida per tutta la regione, dalla mezzanotte odierna e per tutta la giornata di domani, 31 ottobre. Le previsioni prevedono flussi a componente occidentale che caratterizzano la situazione meteorologica. In particolare domani, nelle prime ore della giornata, sono previsti rovesci o temporali sparsi, maggiormente insistenti nelle zone interne e sporadici sulla fascia costiera, senza fenomeni rilevanti e con esaurimento già dalla mattinata. Da fine mattinata, invece, per il pomeriggio, è previsto un aumento dell'intensità del vento di provenienza sud-occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinarie e montane. Burrasca forte nelle zone collinarie e burrasca nelle zone basso-collinarie e costiere. Attenuazione del fenomeno a partire dalla serata. Il comune di Fabriano, in via precauzionale, ha chiuso tutti i parchi pubblici per la giornata di domani. E questa era la nostra ultima notizia, ma vi ricordo che tutte le news e le videonews, come di consueto, le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla nostra app, sui nostri social. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata perché noi in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.